Sono quelle annunciate. Nella New Team Aton è regolarmente in campo e nella TOW Lenders rientra dopo molto tempo. Crea modelli molto trendy. Sono dieci, cento, mille. Li disegni e li realizzi. Sono tutti originali. Oggi sale in passerella la stilista di domani. Cambia look detta la moda. Con il nuovo Gira la Moda Grandi Sfilate. Ti voglio bene, mamma. Bebi baci, parla, ride. Bebi baci, bebi bacini. Bebi baci, bebi bacetti. Bebi bacini, bacettini. Quanti schiocchi, bebi bacetti. Quanti baci, bebi baci. Buonanotte. Bebi baci, un bacio di bambola. Andro! Cosa stai facendo? La cassa tesoro con la gaugio. La mappa indica la grande roccia. In macchina. Attento agli indiani. Li ho visti piuttosto. Occhio alle belve feroci. Un coccodrillo. Niente paura, ce l'ha retro. Guarda, c'è un'altra mappa. Allora si continua. Che bello, la prossima volta guido io la gaugio. Bebi, 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 compagno di strada. Grandi avventure nel West con Fisher-Price. La pace regnava a Forda Cota quando... Gli viani ci attaccano! Pronti con il carro! Difendiamo il villaggio indiano! Lanciare i barili! Cuoco! Hanno liberato il prigioniero! Peccati questo! Colpito! Yeah! Forda Cota e il villaggio indiano. Mille straordinarie avventure da Fisher-Price. Mi fa male la pancia! Il paziente sta malato, adesso va per Aton. Se tu abile sarai, di certo vincerai. Ma se sbagli con un osso e il naso sarà rosso. L'allegro chirurgo! Attenzione al malato prontolone! Riviti l'emozione di mille inseguimenti mozza fiatta! Con la pista Supersalto Carabinieri vinci la sfida con chi sfida la legge. Ti dichiaro in arresto! Hai diritto a un avvocato di... Pista Supersalto Carabinieri! Apro! Ciao! Giochiamo insieme! Quale parte del corpo serve per mangiare? Eh? Ah ah! Esatto! Ora tocca a me! Ma cosa mi dici mai? E quale parte del corpo serve per sentire? No! Questa serve per annusare! Topo Gigi domandino! L'amico che insegna a conoscere le diverse parti del corpo. E sono giochi preziosi! Intrapazzami di coccole! Andiamo in spiaggia! Sulla mitica auto di Barbie! Accendi la radio! Suona il claxon! E ora a tutta velocità! La mitica auto di Barbie! Un pieno di divertimento! Mission Bravo! Pronti a combattere! La fortezza Phantom diventa un centro missilistico! E distrugge gli ostacoli! La base mobile corazzata con il lancia missili a ripetizione! Distrugge i nemici! Fortezza Phantom e base mobile corazzata! Da Matchbox! Ligo presenta... Avventure nel sottosuolo! Con la super trivella puoi creare tanti fantastici modelli! E costruire la tua base sotterranea! E oggi Rock Riders è anche su Sidi Rome e PlayStation! Azione e strategia tra tunnel, lava e strane creature! Per un divertimento a più dimensioni! Rock Riders! Giocalo adesso sul tuo pc o sulla tua PlayStation! Costruisci le tue avventure con Lego System! Un attimo di silenzio ragazzi! Devo darvi una notizia davvero eccezionale! Tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, andiamo su Italia 1! Ci raggiunge anche Pollyanna! Già, è super fantastico! Non vedo l'ora di venire a Ciao Ciao Mattina con le mie avventure! Mi raccomando allora! L'appuntamento con i nostri amici è tutti i giorni! Dalle 7 a Ciao Ciao Mattina su Italia 1! Non mancate! L'appuntamento con i nostri amici è tutti i nostri amici è tutti i nostri amici!